Anche quest'anno la Caritas di Caltanissetta si prepara ad accogliere la solidarietà dei nisseni che daranno il proprio contributo per le famiglie in difficoltà durante la raccolta alimentare del Santo Patrono. Sabato 24 settembre, infatti, davanti ai supermercati cittadini che hanno abbracciato l'iniziativa, ci saranno alcuni volontari che mettono a disposizione del prossimo il proprio tempo e impegno e che saranno presenti per raccogliere prodotti che i cittadini doneranno. Come da qualche anno a questa parte, in prossimità della solennità di San Michele, la Caritas di Caltanissetta organizza una raccolta alimentare per tutti i supermercati della città. Grazie al contributo di tanti volontari che vengono dalle diverse comunità parrocchiali, che cerchiamo sempre di coinvolgere, si riesce a portare avanti questa iniziativa che permette quindi di raccogliere generi alimentari di prima necessità che poi vengono portati direttamente presso i nostri empori, in via De Gasperi, per utilizzarli nel servizio che l'emporio alimentare svolge ormai da diversi anni, quello del sostegno e del supporto a tante famiglie della nostra cittadina nissena. Prosegue intanto l'attività quotidiana della Caritas. Le attività della Caritas che si portano avanti in questi mesi riguardano innanzitutto sempre il fronte ucraina, quindi continuiamo sempre la nostra accoglienza, il nostro supporto, il nostro sostegno alle famiglie che sono ospitate a Caltanissetta presso alcuni istituti religiosi, presso alcune parrocchie e presso anche alcune famiglie. E poi continuano le attività ordinarie della Caritas, il centro di ascolto, le attività dell'emporio. Tanti progetti in cantiere. Stiamo cercando di concludere e presentarli poi durante l'anno al nostro Vescovo Diocesano, nonché anche a Caritas italiana, in attesa anche di avere le dovute autorizzazioni per iniziarli. Quindi diciamo le idee non mancano mai. Le idee non mancano mai, no, la Caritas è sempre un cantiere aperto.